Allora, buonasera e benvenuti allo Spazio Life. I nostri ospiti di oggi sono Leonardo Caffo, filosofo dell'Università di Torino e esperto di etica animale, e Barbara Balsamo, attivista per i diritti animali e presidente dell'Associazione per Animali Averitas. Oggi siamo qui per discutere di un libro appena uscito per le edizioni sonda che si intitola Il maiale non fa la rivoluzione, manifesto per un antispecismo debole, autore lo stesso Leonardo Caffo. Allora Leonardo, per cominciare ti chiederei se possibile, anche per dare un'idea a chi non ne sta nulla, di sintetizzare molto brevemente quelle che sono le tesi principali del tuo libro. Allora, dato grazie. Do per scontato che la tesi principale è quella che gli animali non umani debbano essere presi in considerazione dalle nostre teorie morali, sia in qualche modo la base comune di questo e di altri libri, per cui su quella nello specifico non mi soffermo e so che sia tu che Barbara che altri antispecisti sono d'accordo con almeno quell'aspetto. Le tesi principali sono due, vengono articolate nel secondo e nel terzo capitolo, mentre il primo è una ricostruzione del dibattito che dagli anni 70 in poi si è articolato attorno all'antispecismo e ai modelli diversi di antispecismo, prima nell'etica analitica e poi nella filosofia di matrice più continentale. Nel secondo capitolo viene articolata la parte decostruttiva della mia teoria, cioè quella di analizzare l'antispecismo politico entro la filosofia italiana, nel senso che poi l'antispecismo politico fuori dai confini italiani non è conosciuto come lo conosciamo noi. Quindi sostanzialmente gli autori che in Italia hanno lavorato su questo tema e io credo che l'unico decente ad aver lavorato su questo tema è Marco Maurizzi, nel senso che è l'unico che ha detto qualcosa di intelligente a tal proposito, gli altri mancavano completamente di qualsiasi tipo di profondità filosofica, infatti si sono detto un sacco di spilate, mentre Marco ha detto un sacco di cose intelligenti e io ho fatto lo sforzo di decostruire quello che è il modello generico di antispecismo politico che io comprimo funzionalmente in un unico modello, questa è una cosa che mi è stata criticata, ma che sono stato costretto a fare perché non c'è una formulazione chiara ed esplicita delle tesi dell'antispecismo politico, quello che è critico dell'antispecismo politico in breve è sostanzialmente l'idea che genealogia e soluzione di un problema coincidano, l'idea che bisogna cooperare con movimenti di liberazione, di critica sociale non attenti all'etica animale perché il nemico da sconfiggere sconfiggere sia per esempio il capitalismo, cioè il sistema economico produttivo più diffuso nelle società occidentali e anche il fatto che l'antispecismo politico non dia alcun tipo di peso e di importanza al motivo per cui dovremmo difendere gli animali non umani, ovvero non si sofferma sullo status morale degli animali non umani, lo dà per scontato, mentre in realtà è un problema enorme che ancora nell'etica analitica non si è risolto in nessun modo, i problemi di confine e via discorrendo. La parte costruttiva invece che ho chiamato antispecismo debole, che per chi ha avuto la bontà di leggere il libro fino alla fine sostengo non essere in opposizione con l'antispecismo politico, ma essere la prima forma di antispecismo politico formulata come antispecismo politico, mentre quello che è venuto prima è qualcosa che in modo naturale si è venuto a creare un antispecismo politico ma non è stato formulato in modo puntuale e quindi quello che io sostengo là dentro è che bisogna recuperare un nucleo minimale di diverse teorie antispeciste affinché si antepongano in modo funzionale, non per scelta filosofica, gli interessi degli animali non umani, questo non perché svengano in secondo piano i nostri o cose di questo genere, comunque adesso ne parliamo insieme. Ti ringrazio, senti io volevo innanzitutto fare io una prima domanda e una prima critica per poi lasciare lo spazio a Barbara e a Leonardo per le repliche. Nella tua parte, nella parte del libro in cui tu decostruisci l'antispecismo politico, secondo la mia modesta opinione, fai una ricostruzione secondo me quanto meno arbitraria dell'antispecismo politico, è vero che ovviamente devi sintetizzare, però secondo me ti concentri su un aspetto non così fondamentale, in particolare mi riferisco al fatto che secondo la tua ricostruzione l'antispecismo politico si concentra soprattutto sul fatto che la liberazione animale sia condizio sine qua non per la liberazione umana e sulla base di questo assunto, di questa implicazione tutto da dimostrare, l'antispecismo politico sostiene che in buona sostanza bisogna convincere gli altri movimenti di liberazione, i cosiddetti umanisti, a lottare anche per gli animali perché questo andrebbe a vantaggio anche degli umani. Secondo me, ripeto mi potrei sbagliare, ma l'antispecismo politico non si concentra su questo, quanto piuttosto sull'altra implicazione, l'implicazione opposta, cioè sul fatto che secondo gli altri specifisti politici la liberazione umana è condizionata per un'effettiva e definitiva liberazione animale, cioè per una liberazione che non sia effimera e bellitaria, per cui secondo me bisogna concentrarsi sullo scenario possibile in cui in una società ipotetica gli animali sono tutti completamente liberi e liberati e gli umani sono esattamente come adesso. Ora se questo scenario è altamente improbabile, altamente implausibile e secondo me ci sono molte ragioni per ritenerlo tale, allora il problema fondamentale dell'antispecismo debole è che non sta effettivamente lavorando per liberare gli animali, cioè non è il problema che questa società non ci piace perché non ci piace avere gli animali liberi e gli umani in gabbia, perché anche gli umani sono animali eccetera. Questa è una parte del problema, ma l'altra parte riguarda il fatto che chi critica la tua impostazione ritiene praticamente impossibile arrivare a una liberazione definitiva degli animali indipendentemente dal voler liberare tutto il resto, dal voler cambiare tutto il resto. Allora, comincio a rispondere a te e poi in primo luogo io falsifico tutti e due i lati della biblicazione, quindi falsifico sia l'idea che si possa avere una società di un tipo e sia l'opposto. È vero che mi soffermo più su uno dei due lati, ma questo lo faccio perché per un motivo semplice, cioè io piuttosto che criticare quello che andrebbe criticato, ho criticato quello che è stato detto. Io ho fatto il semplice sforzo di leggere la letteratura italiana sul tema, poi anche quella internazionale che è di gran lunga più seria come spesso capita in questi casi e ho fatto lo sforzo, perché è davvero uno sforzo, perché molto spesso è confusa, di isolare le tesi principali che ci sono dentro quei tipi di modelli e di vedere fino a che punto reggano. All'interno del libro io dico che sono più che in accordo con molte delle cose dell'antispecismo politico, infatti io non butto capre e cavoli tutte insieme, io faccio una cosa differente. Ovviamente l'antispecismo politico, sono tanti gli antispecismi politici e questa è parte integrante della mia tesi che sostengo che anche l'antispecismo morale, come è stato chiamato stupidamente in Italia, perché veramente noi abbiamo un dibattito tutto idiosincratico in Italia, io spero che questo possa servire quantomeno a renderlo meno idiosincratico, anche gli antispecisti morali erano antispecisti politici, nel senso che chiedevano un determinato tipo di cose, di riforma all'interno della nostra società, all'emite quello che andrebbe distinto è l'antispecismo politico riformista e quello rivoluzionario, che è una cosa ovviamente diversa, ma anche questo è uno sforzo che hanno fatto in pochi e sicuramente non nella nostra lingua. Detto questo, ho avuto molti dubbi sul motivo per cui tu mi dicevi e per cui mi è stato detto in generale che l'antispecismo debole faccia una sorta di non riforma a lungo termine, cioè una sorta di liberazione non a lungo termine, ma una liberazione a breve termine, cioè non lavori, una riforma complessiva della società e quant'altro. Innanzitutto l'antispecismo debole in questo libro, che ha tutti i limiti del mondo, che quindi non lo sto vendendo come meglio di quello che è, ha la puntata di dire come funziona, quali sono i suoi punti deboli, sui punti di forza, su quali critica si basa, etc. Non mi pare che sia un testo dell'antispecismo politico che fa la stessa identica cosa. E anche il testo migliore su questo tema, che è al di là della natura di Marco, che è una collezione di articoli che erano usciti prima su Liberazioni e altrove, non è un testo articolato nel senso di una proposta specifica, di un modello specifico di antispecismo. Da un lato si critica Singer e Reagan per certi motivi, Marco parla di antispecismo metafisico, cioè di antispecismi che sono poco attenti alle condizioni storiche, ma io onestamente non ho trovato da nessuna parte formulazioni esplicite e ben precise dell'antispecismo politico come quella che tu hai dato in questo momento. Anche ammesso che ci fosse un sacco che io per sbaglio non ho letto ed è più che possibile perché non ho ancora finito i classici che parli dell'antispecismo politico così come ne parli tu, io credo che comunque il problema lì sia questo. L'antispecismo politico, nella forma più elegante, si sofferma poco sulle implicazioni morali dell'antispecismo. Per esempio sostiene che bisogna anteporre problemi come quello, faccio solo un esempio, come quello delle argomentazioni dirette e indirette che all'interno della riforma complessiva del sociale si dissolvono perché tutte le strategie devono muoversi in modo sinergico, cioè noi non possiamo isolare un solo tassello, per esempio il problema della sofferenza degli animali e pensare di andare avanti solo con quello perché è chiaro che se qualcosa cambierà, cambierà perché c'è una riforma politica complessiva, economica, ecologica etc. Tuttavia se noi guardiamo, la cosa diventa un po' più tecnica, l'antispecismo politico non dall'interno ma dall'esterno, facciamo una meta teoria che assuma l'antispecismo politico come oggetto, noi vediamo che l'antispecismo politico è esattamente un argomento indiretto, però questo lo puoi fare soltanto se non guardi più dall'interno il modello, ma se lo guardi dall'esterno. Il motivo è questo per esempio, c'è una contraddizione in termini che viene sostenuta dentro il modello di antispecismo politico che io ho compresso non perché io volevo dire quello, ma perché altri hanno detto questo? Cioè l'idea che si possa collaborare con movimenti di critica e di liberazione non attenti all'etica animale, facciamo un esempio, movimenti di matrice comunista, piuttosto che anarcho primitivista, piuttosto che femministi etc., che non hanno più interesse nei confronti dell'etica animale, perché il problema è l'assetto della società così come è costituita adesso, quindi sostanzialmente il suo essere costruita con le sue strutture di dominio etc., e dall'altro lato l'idea invece che bisogna porre, quando si lotta per gli animali non umani, la sofferenza degli animali al centro. È chiaro che se noi lottiamo con persone che non hanno ammesso al centro della loro critica al dominio, qualsiasi cosa questa sia, la sofferenza degli animali non umani, quello che rischiamo è che anche ammesso che si riesca a trasformare la società esattamente come chiedevi tu nella tua domanda, se noi non abbiamo lavorato sul problema dell'etica animale come problema decisivo, primario, si potrebbero riformare nuove società, con nuove strutture economiche o anche con nessuna struttura economica, o anche anarchiche, o anche autarchiche, o anche comuniste, ammesso che tutto ciò sia possibile, realizzabile e possa essere discusso con un minimo di decenza, in cui si riformeranno le posizioni di possibilità dello sfruttamento animale, perché noi non abbiamo preso come nemico lo sfruttamento animale in quanto tale, ma lo sfruttamento animale in quanto conseguenza di un più vasto terreno di sfruttamento che è la struttura della società, così come la conosciamo adesso. Avrei altro da dire, ma preferisco che Barbara o tu mi… Sì sì, adesso Barbara, a te la parola. Sì, allora, il discorso secondo me è molto complesso e in realtà se ascoltassi quello che tu per esempio stai dicendo adesso, così come lo stai dicendo adesso, non potrai che essere d'accordo. Il problema è che secondo me, anche attraverso piccoli termini che sono invece giganti e dietro nascondono tutta una genesi completamente diversa, non rendi giustizia a quello che realmente è l'antispecismo politico. Io mi riallaccio a quello che aveva detto Maria Giovanna, ma vado anche oltre. Io leggendo il libro sono rimasta sconcertata, perché quello che tu descrivi come antispecismo politico attraverso i famosi punti ABC, che tra l'altro erano stati già descritti da te nell'antispecismo debole, negli articoli, in tutta l'evoluzione di questo percorso bellissimo che tu hai sviluppato nel tempo e ai quali già l'autore del testo al quale tu facevi riferimento e quindi Marco Maurizio aveva replicato abbondantemente, li ritrovo proposti nel tuo libro nella stessa modalità e sono semplicemente falsi. Quello è tutto falsato, tu arrivi a delle conclusioni partendo da dei presupposti che non esistono. Quindi riallacciandomi a questi punti, prima di tutto l'antispecismo politico in particolare, è vero che ci sono diversi teorici dell'antispecismo politico in Italia, poi ognuno di noi può valutare autonomamente cosa prendere dall'uno e dall'altro. Io personalmente ovviamente penso sia ormai noto e risaputo, ho trovato nel testo al di là della natura uno spunto di riflessione grandissimo, ma al di là della natura non dice cosa fare agli attivisti per la liberazione animale, è un'indagine, è un'analisi approfondita dello specismo in tutte le sue forme e sfumature e la cosa importante che secondo me sfugge per la quale tu, se posso permettere, parlo da attivista, non da filosofa perché io non lo sono e ovviamente non ho gli strumenti per contestare sullo stesso livello, io contesto per quello che recepisco e che penso di poter utilizzare come attivista. Dicevo, sono delle analisi delle indagini della realtà, della società, che come ho detto anche in ogni articolo recente, sono costituitamente diverse da quella che tu descrivi essere realtà, per cui è falsato anche lì il discorso, a priori, perché io per società intendo una cosa, tu ne intendi un'altra. La società è relazione, quindi si tratta di rapporti, l'antispecismo politico e l'indagine che ha fatto Maurizio e quindi l'indagine e l'analisi che è venuta fuori di specismo, è proprio andare a scavare in quello che sono i rapporti nella storia e nel tempo tra la società umana e il rapporto che la società umana ha instaurato con gli animali e se vuoi anche con l'animalità, perché poi sono collegate ovviamente, ma non si può pensare di pensare alla società come qualcosa di decontestualizzato da quello che sono i meccanismi di dominio e quindi relativizzare i meccanismi di dominio e parlare esclusivamente di etica o prima ancora di morale. Quindi questo è il primo punto. L'altro punto che mi ha lasciato veramente interdetta è quello di cui parlava Maria Giovanna, quindi della questione di liberazione umana, liberazione animale, liberazione umana sì, liberazione animale no. Se l'antispecismo politico indaga il reale dicendo che lo specismo è una forma di sfruttamento di una società che è impostata sul dominio dell'altro da te e ne indaga nella storia, nel percorso storico che l'umanità ha effettuato nel tempo, non si può svincolare da quello che è l'umano. Gli animali sono schiavi dell'uomo e sono schiavi dell'uomo per delle ragioni storiche e materiali, non sono schiavi dell'uomo per delle ragioni morali. Le ragioni morali sono semmai conseguenti, ma anche nel dire conseguenti forse dico una cosa errata, sono concomitanti, sono mescolate a questi meccanismi, la morale e l'etica non fanno altro che legittimare e strutturare un sistema di piani di potere e di dominio all'interno delle nostre società, nelle quali noi siamo avviluppati già come umani e nella quale gli animali a loro volta sono avviluppati. Quindi quando l'antispecismo politico partendo da questa analisi cerca di individuare delle strategie, cosa che non fa Marco perché Marco non cerca delle strategie, Marco ha obiettivamente indagato il reale, ha fatto un'analisi dello specismo, non ha detto questa è la strada che dobbiamo percorrere, tu invece hai scelto di fare questo e ti fa onore, ma secondo me sei partito su pochi non sbagliati, ma diversi che falsano il reale, per cui poi si rivelano quello che diceva Maria Giovanna, infruttuosi e adesso poi ti dico qual è l'altro punto sul quale io come attivista, perché a me sta a cuore questo, non trovo riscontro, sebbene io apprezzi e usi, condivida l'uso della disobbedienza civile ad esempio, che io però vedo come un mezzo, non come una strategia, non so se magari i concetti di cui parlare sono tantissimi, la liberazione è un processo, non è un atto, non è neanche uno stato, la libertà è uno stato, se noi dobbiamo effettuare e partecipare a un processo di liberazione, questo processo di liberazione degli animali per essere effettivo ed efficace, proprio il qui ed ora di cui parli tu, deve indagare e trovare strategie che siano concretamente legate alla realtà, questo dice l'antispecismo politico. Quindi, siccome abbiamo già poco tempo, siccome sei stata chiarissima, magari lasciamo a Leonardo una replica. Sì, 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 assolutamente. Ho qualche difficoltà a replicare, ho qualche difficoltà a replicare per questi motivi, lasciando stare la premessa che sono abbastanza contento che il libro susciti la volontà di dire che quello che ho detto è sbagliato, nel senso che uno è contento quando scrive un libro, non quando non se lo paga nessuno, ma quando qualcuno… Non ci ho detto che quello che hai detto è sbagliato però, eh? Cito, naturalmente perché ho una memoria di lavoro abbastanza funzionante, che l'antispecismo politico che falsifico io non è l'antispecismo politico, cioè che io mi sono creato il mostro e poi l'ho ammazzato sotto le coperte. Allora, sono contento, nel senso che se io riuscire a scoprire, però probabilmente è un problema di dislessia, ho letto male i testi, che cos'è l'antispecismo politico? L'ultima che ho letto è che l'antispecismo politico non esiste, questa è stata l'ultima cosa, perciò addirittura potrei aver contestato qualcosa che non esiste, perciò facciamo pure che il primo… alla fine sarò io un antispecista politico probabilmente, però il problema è che io non riesco a capire qual è l'oggetto della critica, cioè la condizione sine qua non, per esempio, che tanto mi viene imputata come… è una citazione letterale da altri autori, per cui io non me la sono inventata, anzi nella conferenza che abbiamo fatto all'università, la sapienza da voi organizzati, è stata anche imputata durante l'intervento, la condizione sine qua non l'una dell'altra, che tecnicamente significa che è impossibile l'una senza l'altra, poi se uno vuole può giocare con il linguaggio nei modi più articolati, però a casa mia significa che l'una è impossibile senza l'altra. Dall'altro lato, io quello che ho detto e immagino che il libro l'avrei letto e fino alla fine visto che appunto ti sei… l'hai già criticato e che hai fatto bene a fare. E io dico… Aspetta perché non t'ho sentito, mi si è spezzata la comunicazione… Ripeti? Dicevo che ci sono due scopi principali in questo libro, il primo è portare acqua a quello che fanno tutti, il secondo è portare acqua al mulino dell'acqua paradossalmente, cioè quello che io sto cercando di chiedere, umilmente ormai da due anni, il libro ripropone effettivamente non tutto, ma delle cose che sono già state dette altrove perché così l'editore voleva, quello che io sto cercando di chiedere è alla parte avversa di esprimere per la prima volta in modo deciso, serio, puntuale che caspita è l'antispecismo politico, se esiste, cosa esiste, perché, quali sono i suoi principi, i suoi parametri, se non vuole dire che cosa fare, che cosa non bisogna fare, se vuole dire la sua analisi, eccetera. Però le critiche che faccio io sono critiche a cose che ho letto e che sono state utilizzate della vulgata dell'antispecismo politico che hanno anche influenzato l'attivismo così come lo conosciamo oggi, sembra stupido, ma non lo è. Per esempio una delle cose che oggi si pensa in certo attivismo, del tutto contrario a un attivismo che a me non piace per niente, che è l'attivismo diciamo così welfareista e delle associazioni protezioniste, che per me è la cosa peggiore che esista, per cui l'ultimo a dover fare una critica al genere sono io, è che appunto si debbano cercare sinergie con movimenti non di liberazione animale, ma con movimenti che fanno della critica alla società, che per inciso faccio anch'io una critica alla società, non solo all'interno di quel libro, ma l'ho fatta a più riprese, ripetute volte e per un periodo siamo andati anche da molto d'accordo con Marco, basta leggere la recensione che lui ha fatto a Flatus Vogis, che è esattamente quella, la critica che facevo io gli andava più che bene. Comunque si dice che collaboriamo con questo genere di associazioni, perché tra virgolette è l'entito comune e perché appunto come dici tu, e lì non sono d'accordo e ho motivi per non esserlo, ma non il tempo per spiegarlo, la morale è una cosa che viene dopo e che al limite serve a giustificare. In realtà chi Uga abbia a che fare minimamente con il dibattito in teoria dell'azione sa che se non c'è l'intenzionalità, se non c'è lo stato mentale non ci può essere l'azione, l'azione al massimo sarebbe un movimento, quindi ovvio che noi non sfruttiamo gli animali, come dice Marco che dice una cosa che è banalmente falsa, che noi sfruttiamo gli animali perché li riteniamo inferiori, non è che riteniamo inferiori gli animali perché li sfruttiamo, per il semplice fatto che il pensiero viene prima dell'azione, a meno che di non pensare che siamo delle marionette nelle mani di Dio, ma non è così, noi chiaramente pensiamo una cosa prima di farlo, poi che il fatto faccia sì che noi continuiamo a pensare che questi stessi sono inferiori perché vediamo uno stato di cose che giustificheremo anche ma è ovvio che c'è un'intenzionalità prima, comunque le sinergie che noi cerchiamo con questi stessi possono rivelarsi dei boomerang, è quello che sto cercando di dire, ammesso per esperimento mentale, che è solo mentale per essere perché non si andrà da nessuna parte, che riesce effettivamente ad abolire lo stato delle cose presenti e la società del domino così come la conosciamo, ma questo non si è fatto prendendo le istanze etiche che nella giusta prospettiva, ma soltanto prendendo le istanze indirette, lo sfruttamento animale come conseguenza, quello che succede è che si potrebbero ricreare nuove forme di convivialità, non violente nei confronti degli umani, è qui che considero la cosa che diceva Giovanna prima, ma violente nei confronti degli animali umani, nel senso che secondo me è sbagliato anche il pescatore che in modo ecologico va a pescare il pesce al di là della nostra società, che poi la nostra società esemplifichi in un modo estremamente violento lo sfruttamento degli animali, questo non vuol dire che è il modo di esemplificarlo il problema, il problema è il modo di pensarlo, questo è quello che io credo. Su questo io sono d'accordo, ma infatti la lotta comune agli altri movimenti di liberazione non si traduce in quello che hai descritto tu, se si parte dal presupposto che ci debba essere un progetto di liberazione che è un processo da una società di dominio che ha delle caratteristiche ben precise, una volta individuata, tutti i movimenti che lottano contro questo sistema hanno il 99% delle ragioni e delle strategie comuni a quelle di chi lotta per la liberazione animale e questo non significa togliere specificità alla lotta per la liberazione animale, anzi dipende da noi, in questo sì io credo che sia una questione individuale, tutto il resto no, perché secondo me tu parti dal presupposto che quello che è il fatto della società, la realtà della società sia individuale, quindi gli individui decidono, l'intenzionalità, gli individui decidono di fare determinate cose e la società va in una certa direzione, non è vero, la società non funziona così e questo è il punto per cui io ti contesto, questo è il campo sul quale io ti contesto e se si parte dal presupposto che invece la società è relazione e prescinde l'individuo e la volontà dell'individuo, lottare contro questo sistema di poteri e di dominazione che la società umana ha generato in un percorso molto complesso e noi portiamo le stanze antispeciste della liberazione animale in modo orgoglioso, fiero di esserlo, non perdiamo specificità, noi non dobbiamo smettere di lottare per gli animali, non è che dobbiamo fare contestualmente la lotta per gli animali e la lotta per gli animali, andando ad incidere nella società e in quei movimenti che lottano per la liberazione umana con la nostra volontà di liberazione animale, io in questo senso intendo questi best li chiama i ponti, io credo moltissimo nei ponti, ovviamente non intesi come alcuni movimenti antispecisti hanno fatto nella storia dell'animalismo italiano, forse tu quelli critichi, ma non è quello quello che descrive l'antispecismo politico. Mi posso riallacciare a questa cosa che diceva Barbara, perché vorrei anche aggiungere qualcosa, sono molto d'accordo con questo punto di vista, perché ho come l'impressione che a volte quando si parla di allearsi con altri movimenti umanisti, implicitamente non so per quale motivo si intenda che l'alleanza implica un anacquamento, un ammorbidimento delle posizioni antispeciste, non sta scritto da nessuna parte, innanzitutto se noi non dialoghiamo con altri movimenti che vogliono cambiare la società, non vedo come possiamo sperare di diffondere l'antispecismo nella società, primo. In secondo luogo, voi mi dovete spiegare, allora parliamo del presupposto di quando si parla di sfruttamento animale, faccio qualche nome, Cocter & Gamble, Monsanto, McDonald's, Novartis, eccetera, e potrei continuare. Come possiamo sperare di scalfire questi potentati economici, questi sistemi di potere economico, sociale, politico, culturale, senza stringere alleanze. E stringere alleanze non vuol dire andare da loro a dire, a cercare di convincerli, perché andrà a vantaggio degli umani, no, significa diffondere l'antispecismo attraverso il dialogo, la costruzione e la collaborazione. Visto che il 99,9% degli nostri obiettivi possono essere comuni, non vedo alcun motivo per non allearsi e, anzi, vedo solo vantaggi. Attenzione, non sto facendo discorsi, io non sono, Leonardo lo sa, insomma, non sono ascrivibile a quelli che vogliono abbattere il capitalismo di voto pure, eccetera. Però, voglio dire, è indegabile che siamo tutti immersi in un sistema enormemente più grande e potente di noi. E non possiamo sperare di scalfirlo senza costruire alleanze. Ma la cosa più importante è che, secondo me, appunto, allearsi non significa affatto annacquare quella che è la specificità della battaglia antispecista, almeno a mio modo di vedere. Allora, rispondo, però io non dovrei rispondere a queste domande, perché quello che un po' mi fa specie è che io, l'ho detto all'interno del libro, ma l'ho detto più volte, io non sono contro le alleanze, io sono contro le alleanze che non facciano dell'alleanza un sodalizio che parta anche dalla condivisione delle nostre istanze, non soltanto delle loro. E questa è una cosa importante, io sono, ammesso che esista una cosa del genere, un teorico delle alleanze. Il problema è che io dico che bisogna costruire queste alleanze facendo sì che oltre a contestare il nemico comune, mettiamola così, qualsiasi cosa questo sia, si deve anche accogliere all'interno dei movimenti di critica non animalista il problema della sofferenza degli animali non umani. Se noi non ci alleiamo senza aver reso possibile l'accoglimento di questa istanza etica, allora potremmo avere più problemi che vantaggi, solo che questo lo capiremo dopo e non ora. Ma io vado ovviamente per le alleanze, nel senso che è ovvio che se qualcosa cambierà non cambierà perché il filosofo andrà in strada a spiegare che l'animale non umano, come l'umano, ha un sistema nervoso centrale, ha una coscienza e quindi soffre o cose di questo genere. Quello al massimo serve un dibattito filosofico a far capire perché l'antispecismo non è la posizione di un singolo pazzo, ma è un argomento razionale, etico, nel senso in cui era etica anche, etica che combatteva contro lo schiavismo e cose del genere. Quello che io ho cercato di fare all'interno di questo libro, che appunto se avete letto fino alla fine dico nella conclusione, è quello di fare, oltre una pars postruens, anche quello che io ho chiamato una provocazione. Fare una provocazione serve esattamente ad affinare il dibattito, non soltanto ad avere ragione, cioè serve a far sì che tutte queste cose che erano nell'aria e che voi stasera state dicendo, su alcune condivido, su altre no, ma non c'è veramente il tempo per dirlo, ci sia una chiarificazione delle istanze di questo movimento di liberazione animale che attualmente viaggiava sulla confusione più assoluta, le cose che erano messe per iscritto erano molto spesso, sono state che erano filosoficamente scarse e avevano anche problemi dal punto di vista dell'attivismo secondo me, cioè che non si riusciva a capire esattamente quale direzioni dovrà prendere domani il movimento di liberazione animale. Tra l'altro nel libro, nel primo capitolo, in un paragrafo che si chiama Il movimento non fa la prova del cuoco, io contesto esattamente l'idea che l'antispecismo si debba concentrare sulla conversione dell'individuo, io sono assolutamente d'accordo con questo, per cui non mi si può venire a dire che io intendo l'antispecismo come una sommatoria di singoli che cambieranno le loro usanze e questo poi magicamente porterà a chissà quale cambiamento. Quando io faccio quell'esperimento mentale, che è l'esperimento mentale che da un lato vede le saponette del terzo Reich, cioè far capire che cosa vuol dire entro certi limiti contestare o non contestare l'individuo, mentre all'altro lato è una liberazione soltanto di uno dei due soggetti oppressi, lo faccio appunto per testare le accorenze e i limiti della teoria antispecista. Quando io chiedo se noi scoprissimo che l'antispecismo porta soltanto vantaggi agli animali non umani e non vantaggi agli animali umani, saremmo pronti a farlo lo stesso? Questa domanda qui, che è una domanda che non a caso ha illuso Marco, non era nelle vostre critiche di stasera e hanno illuso altri, serve esattamente a questa cosa qui, se noi scoprissimo e si può scoprire, ve lo assicuro, che essere antispecisti non porterà, cioè non è all'interno di quel momento di liberazione totale così come lo pensiamo, saremmo comunque disposti a barattare parte dei nostri futuri vantaggi oltre che quelli presenti per liberare gli animali non umani. Allora io credo che se si risponde... Cioè noi lo stiamo già facendo nel nostro piccolo... Già Arli... E senti come... O cose di questo genere, il problema è riuscire a capire se possono esistere società complesse e articolate che non si basino sullo sviluppamento animale, è chiaro che potrebbero, il problema è che tutte le società che abbiamo conosciuto in ogni parte di questo mondo, anche se in modo molto piccolo, hanno sempre utilizzato gli animali non umani in un certo modo, siccome siamo di fronte a una situazione pensata... Scusami, devo proprio chiudere perché abbiamo già asforato, mi spiace ma purtroppo il tempo è tiranno. E continueremo senz'altro, organizzeremo un altro dibattito a breve. Intanto grazie a tutti e due, a presto. Grazie. Ciao. 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 Ciao.